Ciao amici e bentrovati sul canale. Benvenuti al mostruoso menù di Halloween di Bobo Food. Se non vuoi passare una notte d'inferno di Halloween, ti invito a cliccare la campanella dell'iscrizione. Non fare il furbo. Ti vedo. Guardi i miei video e non ti iscrivi. Occhio che stanotte la puoi pagare. Hai capito? Iscriviti amico. Iscriviti se non vuoi una notte di Halloween da ricordare. Parola di Joker Food. Stasera Joker Food è preparato per voi. Prima di tutto, amico, guarda la mia zucca di Halloween. Halloween. Lì c'è il monaco. Guardate il mio monaco preferito. Saluta gli altri amici. Ciao. Cosa devono fare i nostri amici? Bisogna iscriversi, attivare la campanella, lasciare un bel like e un Halloween. Amico, guarda cosa abbiamo preparato per Halloween. Allora. Spiega ai nostri amici, caro. Allora. Mettiti il cappuccio. E spiega. Amici, scusate se lo dico in questo modo, ma perché è così. E questi sono dei water dei mostri, tipo un cesso. Eh, capite. Poi questi, signori e signore, sono dei topi che entreranno nella nostra pancia. Un po' schifoso, però siamo ad Halloween, eh, scusate. Questo è il sangue tolto dal nostro corpo. Poi questi sono queste qua, delle pizzette di Halloween spaventose. Non sembrano spaventose, però hanno del veleno. Sì, sì. E poi queste sono delle mummie, che con questo sangue lo andremo a mettere sopra. Eh, lo so, sembrano dei pisellini, però sono buoni. Ok, sono brutto, sì, però vabbè. E poi... Avete capito, amici. E vi faccio... Il nostro menu. Guardate che bello. Anche i disegni di... Poi c'è l'altro. Fatti a mano. Dilli, fatti io. Questo è uno zombie che ho fatto io, ho fatto anche questo io. E poi l'altro, papà, dove l'hai messo? Abbiamo anche i biscottini e la zucca. E dopo arriva il risotto e la zucca. E vi faccio vedere com'è buono. Allora, iscriviti al canale Dill. Diciamoli insieme, cosa devono fare? Papà, le facciamo vedere. Sì, ma cosa devono fare? Di iscrivervi. Quei sì, al canale. Canale. Attivare la campanellina e lasciare un bel like. Adesso vi facciamo vedere la nostra zucca di Halloween al buio. Bravo. Fai vedere la zucca di Halloween al buio. Eccola qui, la nostra bella zucchina. Vi piace? Spero di sì. E qui ci sono i ragazzi che stanno giocando all'Olimpico. Forza Milan. E qui c'è il mio gioco. Buon Halloween. Ciao. Iscriviti. A dopo. Ciao. Ciao. Ti sei iscritto al canale, vero? Non hai paura? Ecco il nostro risotto di Halloween alla zucca. Con le mozzarelline di fior di latte piemontese. Mmm. Che buona la zucca. Tutta la zucca. Edda, che bella la zucca. Ecco qua. E io me la mangio. E tu iscriviti al canale. Mmm. E' risotto la zucca. Buon Halloween, amici, da Bobo Joker. Ne vuoi? Ma è Bobo Hit. E' Hit comunque. E' buonissimo. Iscriviti al canale. Ok? Se no, venga a casa tua. E mando i mostri e gli zombie. Ricorda che Bobo Joker è la cucina italiana. Sono la cucina italiana. Ciao. Al prossimo video. Spaventoso. Viva Bobo Hit. Spaventoso. Spaventoso.